Come vorrei che fosse il primo appuntamento con un ragazzo. So che è il nostro primo appuntamento, ma ho pensato a qualcosa di speciale. Musica. Sì, signor. Le cioccolatini, che carino. Che meraviglia. No! Come è veramente? So che è il nostro primo appuntamento, ma... avevo già detto ai miei amici che sarei uscito con loro stasera. Bella sia! Ciao, Svivo! Amore, vedrai che ci divertiremo. Che si è un grande po-po-po-po-po-po-po-po-po-po! Never get away in my hole in line of meples!